Buongiorno a tutti, sono Tullio Miscoria, sono il docente di Skillab per il corso Le mosse vincenti della contrattazione. Vi attendo numerosi su questo tema, quanto mai rilevante, perché sempre di più al manager collaboratori dell'impresa è richiesto di affinare le proprie abilità negoziali per costruire accordi all'interno e all'esterno dell'organizzazione che siano di ampia soddisfazione per i vari contraenti. Quindi sarà una giornata dedicata ad affinare le nostre abilità sia negli approcci di metodo che negli approcci di stile. Realizzare un accordo deve essere un'occasione per sviluppare una relazione, per fare un passo avanti nel costruire collaborazioni sempre più integrate e sempre più efficienti. Sappiamo bene quindi che perché gli accordi si realizzino bisogna che la negoziazione si sia sviluppata nel modo più lineare e più completo possibile senza lasciare sacchi di insoddisfazioni, perché se c'è un'insoddisfazione, come sappiamo bene, tende a riemergere. Quindi avremo modo nei due momenti in cui si articola la giornata, il toggle del mattino con i training del pomeriggio di definire quelle che sono le linee guida che utilizzano i nostri negoziatori professionali nei vari ambiti, nonché gli approcci di metodo che ci avvicinano all'interlocutore, superando magari in alcuni casi atteggiamenti antagonisti che conosciamo bene e che costruiscono magari un ostacolo al pieno soddisfacimento dell'accordo. Quindi vi attendo, sarà una giornata stimolante nell'ambito nel quale ragioneremo dei vari contesti in cui costruire un buon accordo è per noi fondamentale per esprimere al meglio le nostre capacità e la valenza del nostro ruolo. Vi aspetto numerosi!